Figlio di Venceslao Gizzi e Matilde Palcani. Dopo gli studi universitari frequenta una scuola di ballo e di canto possedeva una voce limpida. E baritonale scegliendo poi, per motivi economici, di fare l'impiegato delle ferrovie dello Stato raggiungendo il grado di sottocapostazione. Proprio in quel periodo, scopre la sua vocazione da attore. Frequenta alcune filodrammatiche dove trova modo di distinguersi con una recitazione brillante e, impegnata, nel 1923, in occasione di uno spettacolo all'aperto sul Colle Palatino di Roma in onore di ospiti reali, viene scelto per interpretare la parte di Remo in un testo intitolato Rumon. Dopo quell'incoraggiante esperienza, entra come attore giovane nella compagnia di Giuseppe Sterni recitando in seguito a fianco di Grandissimi attori come Annibale Betrone, Uberto Palmarini, Luigi Carini, Emma Grammatica, Ruggero Ruggeri entrando inoltre nella Besozzi Ferrati. Recita anche con Peppino De Filippo riuscendo, nel 1949, ad ottenere il nome inditta nella Gizzi Barbara Anicelli. Quindi, nei primi anni 50 fa parte della Compagnia del Teatro dei Satiri di Roma con Cesarina Gheraldi partecipando a più riprese a spettacoli dell'Istituto del Dramma Sacro. Nel 1938 aveva inoltre preso parte ad uno spettacolo d'eccezione come Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio, messo in scena al Teatro Argentina di Roma da Renato Simone con Andreina Pagnani protagonista ed Un cast d'eccezione che comprendeva Filippo Scelzo, Sandro Ruffini e un esordiente Eroldo Thieri. Non alto di statura, corpulento e non certo avvenente. Lavora moltissimo nel cinema come caratterista. Sullo schermo debuta nel 1933 e facendosi notare subito per la sua aria paciosa e simpatica. Il film del suo debutto è tamerò sempre di Mario Camerini che, cosa assai rara e curiosa, lo vorrà ancora presente nel medesimo ruolo. Mere Galli, nel remake del 1943 che il regista romano dirigerà nuovamente. Gizzi inoltre, particolare e altrettanto curioso, rifa più volte sullo schermo il personaggio di Gioacchino Rossini. Cui è aderentissimo per la stazza fisica oltre che per la bonomia e simpatia. Attivissimo anche in televisione. Prende parte a numerosi sceneggiati televisivi fra i quali Il Mulino del Po. Del 1963, David Copperfield di Anton Giulio Maiano. Del 1966, nel quale interpreta l'inflessibile padre di Laura Efrician. I Buddenbrook, del 1971, nel quale impersonava il personaggio del senatore Mollendorf, in possesso di una voce calda, pastosa e inconfondibile. Fa parte anche di ottime compagnie di doppiaggio prestando le sue tonalità a vocali ad attori famosi. Fra i quali Lionel Barrimore, Alan Ale nel film I Pascoli dell'Odio, Ward e Bond, Leo G., Carrol, Herbert e Marshall nonché Donald Crisp che nella maturità interpretò più volte l'anziano padre. Proprio come Gizzi e che lo ricordava anche fisicamente nel celeberrimo il dottor Jekiele M.R. Ida di Victor Fleming, era vedovo di Pierina Giuliani.